Lettori appassionati di quattro ruote, ancora si parla di tecnica con l'ingegnere Paolo Massai, argomento che scotta oggi, il motore diesel che è sul banco degli imputati. Sappiamo che non è vero che inquina più del benzina, anzi può inquinare meno, ma l'argomento è così delicato che vogliamo fare il punto della situazione, cioè qual è lo stato reale, il suo stato reale e cosa sarà a breve per lui. Paolo. Allora, io qui vi ho riportato i limiti per i motori diesel di autovettura. Partiamo da quello che è entrato in vigore nel 2014, l'Euro 6. L'Euro 6, l'emissione dannosa per l'uomo, non stiamo parlando di ambiente in cui l'emissione critica è la CO2 perché c'è l'effetto serra, ma quella critica per l'uomo sono gli ossidi di azoto, contraddistinti da NOx, in cui nell'Euro 6 avevamo questo limite di 0,08 grammi al chilometro, ma misurati secondo un ciclo, il vecchio ciclo NDC, che è un ciclo molto blando. Più permissivo. Più permissivo, tant'è che noi a quattro ruote, dicevamo sempre, i consumi misurati secondo quel ciclo che è più permissivo sono lontani dalla realtà. Questo ciclo è stato cambiato in corrispondenza del gennaio dell'anno scorso 2019, quando è entrata la normativa Euro 6 di TEMP. TEMP sta per temporaneo, in cui il limite sugli ossidi di azoto 0,08 è rimasto lo stesso, ma il ciclo è cambiato, molto più severo. Dura di più, ha delle accelerazioni più forti, una velocità massima più alta. E qui c'è stata la prima difficoltà, cioè tutti si sono dovuti attrezzare con il catalizzatore SCR, che è un catalizzatore riducente che in presenza di urea, il nome commerciale è la di blu, riesce a ridurre gli ossidi di azoto. Questa legislazione è durata solo un anno, in corrispondenza è partito l'RDA, il Real Driving Emission, cioè le emissioni misurate con una strumentazione attaccata alla vettura, dietro allo scarico, e guidando la vettura nelle condizioni normali di traffico, con un certo profilo di guida che dipende dal traffico, in cui il limite era abbastanza alto, perché il fattore di deterioramento, vedete due, proprio per dare tempo ai costruttori di adeguare tutti i vari motori diesel, cosa che è stata fatta con notevole vantaggio rispetto all'Euro 6. Adesso, 2020 gennaio, per le nuove omologazioni, siamo in Euro 6D, Scompare il tempo. Scompare il tempo. Che cosa è successo? Sul banco a rulli il limite è sempre lo stesso, con il ciclo WLTP, ma guardate la prova su strada, l'RDE, il fattore di correzione è sceso da 2 a 1,5, significa che siamo andati a 0,12. D'accordo, sul banco è 0,08, ma la prova su strada può essere molto più severa, perché su strada si può accelerare molto di più, eccetera. Quello 0,12 risultava assolutamente critico proprio per gli ossidi di adeguato. Vi farò vedere poi com'è stato risolto, con l'uovo di Colombo, però pagando di più. A un costo. Che cosa succederà? La situazione ad oggi è molto inseverita, o comunque si sta andando verso un inseverimento molto forte. È previsto al 2025, diciamo che è quasi certo, anche se non è ancora legge europea, un euro 6 di plus plus, in cui il fattore di deterioramento scende a 1,2 e il livello di NOx misurato su strada scende a 0,096. Molto difficile. E nel 2030 è previsto un euro 7, in cui già al banco si scende dagli attuali 0,08 a 0,05. Attenzione, queste differenze sono notevolissime. Fanno la differenza. E su strada non solo si scende da 0,96 a 0,05, ma addirittura le temperature di prova devono essere in questo range. Da meno 20 a più 35, quindi si possono fare delle prove invernali che ovviamente creano degli ulteriori problemi al motore diesel. Quindi è una situazione dal punto di vista del motore diesel che continua a consumare di meno i suoi limiti, infatti però continua a consumare meno del benzina, però qui avrà dei limiti veramente stringenti. Sicuramente la tecnica riuscirà a risolverlo, ma a patto di... Ecco la soluzione attuale. Questa è la soluzione attuale, in cui per conformità ai limiti Euro 6D alla prova su strada, che cosa è stato fatto? Il problema era nell'NX il cui catalizzatore è l'SCR. E lo vediamo qua. Questo è il catalizzatore a bordo motore, che riceve i gas di scarico dalla turbina, passano nel catalizzatore ossidante per ridurre l'ossido di carbonio e l'idrocarbuno in combusti. Qui c'è l'iniettore di urea, vedete, con una serie di palette per diffondere l'urea, diciamo di blu, in maniera più omogenea. E questo è il catalizzatore SCR. Questo catalizzatore SCR ha una finestra di temperatura di lavoro molto ristretta. Al di sotto dei 250 gradi non reagisce e al di sopra dei 350 comincia a perdere efficienza. Questo è il motivo in cui era stato montato a bordo motore, proprio per riscaldarsi subito già dalla partenza. Qual è stata la soluzione per rispettare l'Euro 6D? Beh, si è aggiunto un altro catalizzatore sotto il pavimento, che quindi rimane più freddo. Quando questo arrivi a 350 gradi, viene interrotta l'iniezione di urea nell'iniettore che compete a questo catalizzatore vicino allo scarico e l'urea viene iniettata dall'iniettore che è sotto il pavimento che è più freddo e che rimarrà, si è visto, durante le condizioni di funzionamento normali di una vettura, rimarrà tra i 250 e i 350 gradi. E quindi si è ottenuto il raggiungimento in maniera, direi, è l'uovo di Colombo. La finestra era troppo stretta, ne aggiungiamo un altro. Il catalizzatore SCR all'interno ha dei metalli nobili, quindi non ha un costo. Chi ha motori così evoluti? Mercedes, Volkswagen, BMW, adesso ce l'avrà anche FCA, Peugeot. Una strada obbligata. Per rispettare l'Euro 6D, cioè quelle che una volta venivano chiamate le trappole per gli anni X, che erano cose economiche, niente, è sparito tutto. Questo in particolare è la GTD che sarebbe stata presentata a Ginevra in questi giorni, che ha il doppio catalizzatore, non solo, ma anche il doppio circuito EGR. Uno ad alta pressione, con la presa del gas di scarico prima del turbogruppo, e un altro in bassa pressione dopo il turbogruppo. Questo serve per mandare gas di scarico nella camera di combustione per abbassare le temperature, che sono quelle che creano gli anni OX. Quindi concludendo, diciamo che il diesel ha una strada in salita. salitissima, Paolo, con due sbarramenti. Uno al prossimo 2025, come se ci fosse un fossato, e sarà una restrizione, un limite, chi è ben allenato potrà andare di là, e l'altra restrizione sarà un fossato nel 2030. Questi sono i due limiti temporali. Quindi non è vero che inquina di più, anzi il contrario, e può essere pulito, ma per essere pulito ha un costo, un costo notevole. Per cui sarà... Solo chi investirà potrà, però sarà destinato a... A una certa categoria di vetture. Difficile vederlo nelle vetture piccole, perché non ci sono... Andrà scomparendo per le vetture piccole, che devono avere un prezzo contenuto, di larga diffusione, per il mass market. A meno che, insomma, ovviamente chi fa molta ricerca, chi fa molta innovazione, chi investe in ricerca e innovazione, è probabile che riesca a trovare una quadra. Però, insomma, allo stato livello, al livello dell'attuale stato della ricerca, siamo... Ci sta lavorando, Paolo. Insomma, avete capito, il diesel non è sporco, brutto e cattivo. Il diesel può vivere ancora a lungo, ma dipende solo da questi, da una questione. Però consuma di meno. Diciamo che a livello di effetto serra sull'ambiente darebbe dei vantaggi perché ha un 20% di consumo. Quindi sarebbe giusto dire giù dal banco degli imputati. Perché non è così? Adesso guardiamo i benzina, stessa tabella. Qui ci sono gli NX, non c'è nessun problema da parte dei benzina di rispettare gli NX, ma per rispettare i vincoli sul consumo di combustibile, il benzina ha bisogno della parte ibrida, come abbiamo visto. Ed eccolo qua, l'arrivo degli ibridi. E quindi questo è il quadro della situazione. Speriamo di essere stati chiari. È un argomento molto difficile, che però scotta. E abbiamo cercato di dare qualche numero che fa capire... Sì, anche perché qualcuno dei nostri lettori ogni tanto mi dice Ah, ma anche tu confondi le emissioni, in quel caso parlavo di CO2, con i consumi. Allora, vi spiego perché in Europa i consumi si calcolano con la CO2. Perché la prima cosa che si fa per omologare una vettura è la prova sul banco a rulli. Il banco a rulli è composto di analizzatori i quali danno in maniera gratuita alla fine il valore di emissioni di CO2, che guarda caso è esattamente correlato con il consumo. Quindi, invece che fare una prova specifica per il consumo, si prendono le emissioni di CO2. Per quello che il 95 è riferito ai grammi al chilometro di CO2, perché è una misura che viene direttamente dalla prova... Però è una prova irreale, perché è costante, regime costante, è artificiale. Con il ciclo WLTP... C'è un protocollo che... Però la guida reale è diversa. A quattro ruote abbiamo una modalità di rilievo dei consumi in pista, quindi è indipendente dall'influenza del traffico, secondo una modalità che abbiamo verificato essere conformi a questa RDE, quindi siamo già avanti, e leggiamo sempre un consumo più alto del 15-20% rispetto a quello letto con il ciclo WLTP. Quindi non è più il 60% dell'NDC, ci siamo ravvicinati. Bene, siamo giunti al termine. Il diesel non è morto. Lunga vita al diesel. Dipenderà solo dalla tecnologia. Grazie Paolo, alla prossima. Arrivederci. Grazie a tutti. Grazie a tutti.